O Cristo, torniamo a te anche quest'anno con gli occhi abbassati di vergogna e con il cuore pieno di speranza. Con questa invocazione Papa Francesco ha concluso la tradizionale via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, alla quale hanno partecipato circa 20.000 fedeli. Con il Pontefice hanno seguito la meditazione delle 14 stazioni, curate dalla biblista francese Anne-Marie Pelletier, che ha descritto la cattiveria del mondo e il dramma delle guerre, dei migranti, delle famiglie lacerate e dei bambini violentati. Quindi il Papa ha espresso nella sua preghiera la vergogna di tutti i cristiani. Vergogna per gli sanguinocenti che quotidianamente viene versato di donne, di bambini, di immigrati e di persone perseguitate per il colore della loro pelle oppure per la loro appartenenza etnica e sociale e per la loro fede in Te. Vergogna per il nostro silenzioso dinanzi alle ingiustizie, per le nostre mani pigre nel dare e avide nello strappare e nel conquistare, per la nostra voce squilante nel difendere i nostri interessi e timida nel parlare di quelle di altrui, per i nostri piedi veloci sulla via del male e paralizzati su quella del bene. Nella vergogna, però, ha proseguito il Papa nella sua preghiera, il nostro cuore è nostalgioso della speranza fiduciosa della misericordia del Signore, perché i nostri tradimenti non fanno venire meno l'immensità del tuo amore. La speranza è che il bene vincerà nonostante la sua apparente sconfitta. Per questo, davanti al patibolo di Gesù, ha concluso Francesco, ci inginocchiamo, invergognati e speranzosi, e ti chiediamo di insegnarci a non vergognarci mai della tua croce, a non strumentalizzarla, ma di onorarla e di adorarla, perché con essa tu ci hai manifestato la mostruosità dei nostri peccati, la grandezza del tuo amore, l'ingiustizia dei nostri giudizi e la potenza della tua misericordia. Grazie a tutti.